Tra gli elementi positivi emersi questa mattina nell'incontro col Presidente del Consiglio ci sono sicuramente questi 100 milioni di euro che vengono messi come inizio di un riconoscimento di restituzione di 564 milioni che erano stati tagliati ai comuni. È importante perché vanno sul fondo di solidarietà comunale e ripristinano un principio di perequazione verticale nel nostro Paese. È importante anche dal punto di vista simbolico il riconoscimento da parte del Governo della dignità dei sindaci dei piccoli comuni attraverso un riconoscimento di un'indenità minima di almeno 1.500 euro netti per i sindaci dei piccoli comuni. Ci sono un'altra serie di misure rilevanti che sono state discusse questa mattina, in particolare l'impegno forte manifestato dal Ministro dell'Economia per arrivare all'inizio del prossimo anno a definire le condizioni della ristrutturazione del debito dei comuni. Oggi i comuni pagano interessi esageratamente elevati sul proprio debito rispetto a quelli di mercato. Da un intervento di questo genere potranno venire risparmi molto significativi e molto importanti per i bianci dei comuni.